ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi nuovo video come vedete questa è una ricostruzione fatta da una mia cliente e adesso sto stendendo questo colore nero che si chiama poison black di passione unghie sempre due passate e nell'annulare andrò ad applicare optical silver che mi è finito quindi devo ordinare perché veramente è piaciuto a tante persone anche quest'estate l'ho fatta a parecchi clienti e infine lucido ultra gloss di passione unghie l'olio cuticole di passione unghie sempre niente spero che il video vi piacerà se sarà così metterete un pollice in su sotto il video se volete mi commentate io vi lascio un bacio vi lascio il video e ci do un prezzo al prossimo video ciao 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 ciao